Schianto in tangenziale a Portogruaro, muore un diciannovenne di Concordia Sagittaria, una seconda persona ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Pioggia battente, neve in montagna e temperature a ribasso, a nord-est scenario autunnale, più che primaverile, il maltempo potrebbe continuare per tutta la settimana. Al via in consiglio regionale a Trieste la discussione sul programma di governo Fedriga al centro del dibattito Sanità, Lavoro, Immigrazione e Cambiamenti Climatici. Cresce di quasi un punto percentuale il PIL del Veneto nei primi tre mesi dell'anno, in aumento anche i consumi delle famiglie e gli investimenti, nuovo balzo in avanti dell'export, in testa il vino, forte ripresa di lavoro e turismo. Bene ritrovati con l'informazione di Media24, questi erano i titoli della nostra edizione. Dunque è tragedia a Portogruaro a seguito di un sinistro accaduto lungo la tangenziale, perde la vita un giovane di 19 anni residente a Concordia Sagittaria. E' terribile il bilancio dell'incidente stradale di ieri sera in tangenziale a Portogruaro. Colui che inizialmente era rimasto ferito, il 19enne di Concordia Sagittaria Admir Hoti, è deceduto nella notte, poco dopo l'1.30, all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Il padre, ricoverato a Portogruaro, è stato dimesso in mattinata, con dolori alle gambe. Viaggiavano entrambi su una grande punto, guidava il ragazzo. L'altro ferito è un uomo di 30 anni di Portogruaro, rimasto incastrato su una Chevrolet, liberato dai vigili del fuoco. Le sue condizioni si sono aggravate, presenta fratture alle gambe e agli arti inferiori, è stato ricoverato nella notte all'ospedale di Treviso. L'incidente è avvenuto attorno alle 20, sotto una pioggia torrenziale, alla tangenziale di Portogruaro, di fronte alla Purina, in un tratto curvilineo. Velocità, invasione di corsia, pioggia, possono avere contribuito allo scontro. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Portogruaro. Sul posto due ambulanze, una da Caorle e l'altra da Portogruaro. Il 19enne lavorava come operatore stagionale, il padre muratore. Assieme alla mamma e al fratello maggiore, Admir Hoti viveva. In via Santi Martiri, a ridosso del centro di Concordia. Sacile, al punto di primo intervento, due uomini si sono rivolti nel primo pomeriggio di oggi per chiedere aiuto per la cura di lesioni da ustione, prevalentemente agli arti inferiori, riferendo di essere rimasti coinvolti in un'esplosione, un ritorno di fiamma e di una bombola di gas. Per le due ferite rimasti comunque stabili e coscienti. È stato disposto per uno il trasferimento in volo alla Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, per l'altro il trasferimento all'ospedale Santa Maria degli Angeli con l'ambulanza. Entrambi in gravi condizioni non sarebbero in pericolo di vita. Il meteo con le temperature al ribasso in tutto il nord-est. In montagna è ricomparsa la neve, in pianura la pioggia ne trae beneficio. Chiaramente l'agricoltura dopo la lunga siccità, ma resta anche l'allerta gialla in Veneto per criticità idrogeologica. Fino a domenica pioggia anche su tutto il Friuli Venezia Giulia. Sentiamo allora i particolari nel servizio di Tania Pellegrini. Crollo delle temperature, neve in montagna e pioggia come se fosse autunno in Friuli Venezia Giulia, così come nel resto d'Italia, dove non si può ancora abbandonare giubbotti e ombrelli, anche se sarebbe tempo, di maniche corte. Erano infatti anni che non si vedeva un inizio maggio così grigio e freddo, con il termometro che in pieno giorno oggi ha segnato gli 11 gradi. Da ieri notte è tornata anche la neve in montagna, sopra i 1500 metri, e la bora soffia sostenuta su Carso e Trieste. Piogge diffuse e persistenti stanno interessando tutto il resto della regione e continueranno a farlo almeno fino a domenica, anche se con un leggero aumento delle temperature che comunque non supereranno i 20 gradi. Domani attesi temporali sparsi, con piogge anche abbondanti soprattutto nel Bordenonese. È l'effetto della depressione che sta interessando vaste zone dell'Europa centro-occidentale e quindi anche l'Italia e la nostra regione. Quota neve prevista a 1800 metri circa, localmente inferiore nelle zone alpine più interne. Da lunedì atteso cielo variabile, con la possibilità di qualche pioggia al pomeriggio sulla zona montana e con temperature gradualmente più primaverili. L'equipe dell'ospedale di Porto Gruaro ha asportato una massa solida tumorale di origine ovarica del diametro di circa 15 centimetri a una paziente residente sul territorio. Si è trattato dell'undicesimo caso simile al mondo dal 1948. L'intervento eseguito dal primario di ostetricia e ginecologia Gianluca Babbo è andato a buon fine ed è stato riportato in una rivista internazionale. La donna è raggiunta in pronto soccorso lamentando dolori addominali e nausea. Ora la paziente sta bene e continua a essere seguita dal reparto in associazione per quanto concerne gli specialisti oncologici. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia a Trieste si discute sul programma di governo del secondo mandato del presidente Massimiliano Fedriga dopo la presentazione delle linee programmatiche al centro del dibattito diversi temi sanità, lavoro e migrazione e cambiamenti climatici. Ha preso il via questa mattina nell'aula del Consiglio regionale a Trieste il dibattito sul programma di governo presentato la scorsa settimana dal governatore Massimiliano Fedriga. Al centro dei primi interventi da parte dell'opposizione i temi della sanità, del lavoro e dell'ambiente. In particolare la consigliera Dem Laura Fasiolo ha evidenziato con il suo intervento come i servizi sanitari siano talmente ridotti all'osso da rischiare la chiusura per consunzione con il crescente rischio che le persone ricorrano al privato non potendo contare sul servizio pubblico. A farle eco è stato Marco Putto, consigliere di patto per l'autonomia civica che ha accusato l'amministrazione regionale di aver messo i riflettori sulla sanità privata contribuendo così alla mancanza di personale nel settore pubblico. Lo stesso sostiene Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra convinta che la riforma sanitaria della giunta Fedriga sia servita all'ingresso in pronto soccorso di medici a gettone che costano quattro volte di più dei medici assunti e la conseguenza, attaccato, sarà spingere ancora più operatori ad andare nel privato dove i pazienti sono un bancomat. In disaccordo il consigliere di maggioranza Marcus Maormai è esponente di Fratelli d'Italia che invece ha sottolineato l'impegno di Fedriga Riccardi nell'attuare il percorso di riforma della sanità dove risulta ineludibile l'intervento del privato. Non concordano invece i consiglieri del PD Manuela Celotti e Nicola Conficoni che nei rispettivi interventi hanno rimarcato che il privato convenzionato non va demonizzato ma resta privato e quindi risponde alle logiche del profitto. Per questo oggi finanziare la sanità privata significa incentivare il passaggio del personale. Centri medici e ambulatori, ha ricordato Conficoni, stanno crescendo velocemente e assumono personale dal pubblico, indebolendolo. È necessario, ha concluso, valorizzare le risorse umane e non lasciarle fuggire. In materia di lavoro Marco Putto ha ricordato che negli ultimi dieci anni 50.000 giovani neolaureati sono andati all'estero, giudicando quindi ardita l'affermazione di Fedriga sul Friuli Venezia Giulia come locomotiva dell'economia nazionale. Concorde è la consigliera del PD Manuela Celotti che ha criticato l'assenza nella relazione programmatica del presidente di interventi sulla povertà, nonostante le famiglie in condizione di povertà in Friuli Venezia Giulia siano l'8,5%. Per l'esponente Dem servono politiche mirate di supporto alle persone in povertà anche potenziando misure esistenti come dote famiglia. Il collega Andrea Carli ha invece approfondito il tema delle infrastrutture rivolgendosi direttamente all'assessora pordenonese Cristina Mirante, auspicando che venga colmato l'evidente gap infrastrutturale della destra tagliamento rispetto ad altri territori. Sul tema ambientale il consigliere di Open Sinistra FWG Furio Onsel si è detto deluso dalla politica industriale regionale, chiedendo al presidente Fedriga chiarezza sulla possibilità di istituire un'acciaieria in Laguna tra Grado e Lignano. Dall'altra parte il consigliere di maggioranza Maormair ha detto di aver apprezzato le linee programmatiche della giunta Fedriga che evidenziano un disegno chiaro ed insieme per la regione, esprimendo apprezzamento in particolare per le misure introdotte in materia di politiche sociali che di fronte alla tendenza alla denatalità ormai drammatica rappresentano la strada giusta per una possibile soluzione. Per la maggioranza è intervenuto anche Stefano Balloc che ha posto l'attenzione sul manufatturiero friulano in crisi. Per l'esponente di Fratelli d'Italia bisogna impegnarsi perché il territorio del Friuli Venezia Giulia non diventi solo un corridoio di attraversamento ma che le merci si fermino in regione per rilanciare i nostri prodotti nel mondo. Il persistente silenzio del governo sulla situazione di Electrolux preoccupa proprio mentre diventano sempre più pressanti le voci sull'acquisizione da parte di una multinazionale cinese. Lo dice in una nota la deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani a fronte delle insistenti voci di vendita di Electrolux alla multinazionale cinese Emidea e della richiesta dei sindacati al governo di convocare un tavolo di settore a Roma. Il governo non può continuare ad agitare il pericolo cinese e poi, sottolinea la deputata Dem, non agire di conseguenza quando si presenta concretamente alle porte. Le rinnovate richieste dei sindacati all'esecutivo per la convocazione di un tavolo di settore sono legittime e doverose. Auspichiamo vivamente che la risposta concreta arrivi. Alla Parlamento Europeo invece l'eurodeputata della Lega Rosanna Conte ha contestato il piano d'azione della Commissione che prevede la messa a bando della pesca a strascico. Nel corso di un dibattito alla presenza del commissario alla pesca Virginius Sinchevicius Conte ha preso la parola mostrando un pezzo di rete a strascico usata in Italia. Questo piano d'azione è un boomerang addetto in nome di un ambientalismo ideologico. Si vuole vietare la pesca a strascico praticata da ben 2088. Imbarcazioni italiane ci chiedete di rinunciare al 20% della flotta italiana e a intere filiere ittiche per fare spazio al pesce importato da paesi terzi che nemmeno rispettano le nostre stesse regole, i nostri stessi standard. Ha detto l'eurodeputata leghista. Andiamo a Fiume Veneto. Si sblocca l'iter per la sistemazione del nodo tra Via Bassi e lo svincolo autostradale. L'ha reso noto oggi il Comune. In questi giorni il sopralluogo. In partenza i lavori per la realizzazione della doppia rotatoria in Viale della Repubblica all'altezza dello svincolo autostradale e di Via Bassi. L'intervento permetterà di mettere in sicurezza sia l'incrocio tra Viale della Repubblica e Via Bassi che è quello tra il raccordo autostradale e Via Pian di Pan, un punto nevralgico della viabilità del centro urbano. Speranze finite invece a Trieste per l'ex giocatore di basket Max Vlacci. Rosario Padovano. Massimiliano Vlacci è morto a Trieste. Il cadavere del 49enne triestino, scomparso tre giorni fa nel quartiere di Servola, è stato rinvenuto nella serata di ieri in una zona periferica della città. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, oltre alla polizia di Stato. L'uomo, molto noto nel mondo dello sport triestino, aveva lasciato le chiavi di casa dell'autovettura presso l'abitazione del padre, a Via di Servola. Sui social era partita la richiesta di aiuto di amici e familiari. Per quanto riguarda la dinamica del decesso, una prima ricostruzione non escluderebbe il ricorso a un gesto estremo. Massimiliano Vlacci, detto Max, ha giocato a palacanestro in Serie C, con il Don Bosco Trieste e il Santos. Nel Don Bosco più volte è stato avversario del Caorle, nell'allora C1 faceva il playmaker. In squadra c'era anche suo fratello. Il padre è stato presidente della Repubblica dei Ragazzi. In studio con noi c'è Antonio Bertoncello, che è componente della direzione del Partito Democratico Veneto. Bentrovato, un focus su Portogruaro ha ormai qualche settimana abbondante dall'insediamento del commissario. Quali le prime impressioni? Allora, una premessa. La città di Portogruaro è arrivata al commissariamento così lungo e così anche complicato per il semplice fatto che all'interno della maggioranza si sono create le condizioni per la mozione di sfiducia. E' un periodo lungo, dicevo, quando ci poteva essere un'opportunità, se le cose stavano andando come sono andate, di poter ridurre di gran lunga il commissariamento. C'era questa ipotesi all'inizio, no? Ma sì, dopo le dimissioni di agosto del sindaco, ritirate con dichiarazioni che le cose si erano un po' allineate e sistemate, a fine gennaio, tre consiglieri della maggioranza e del gruppo misto hanno votato contro il bilancio. C'era tempo, se le cose erano così, di dare le dimissioni e consentire alla città di Portogruaro di andare a votare domenica prossima, perché i tempi c'erano per evitare un tempo così lungo. Però così non è andata, insomma. Però così non è andata. Il commissario è un prefetto, è una persona di grande esperienza, ha ricevuto una nomina diretta dal Ministero degli Interni, molto competente e pare di capire anche con idee molto chiare rispetto alla sua attività. Vuole lavorare per tentare di ridurre al minimo, voglio dire, le difficoltà che la città sta correndo. Ha dichiarato negli incontri che ha avuto con le forze politiche e anche con il nostro gruppo consigliare, di essere molto attento a evitare che la città possa essere penalizzata di questo commissariamento. Si è dato anche degli indirizzi, tra cui mi pare di capire che non si farà perdere delle occasioni con riferimento in modo particolare al settore socio-sanitario e al settore della viabilità. Come si sta muovendo? Si sta muovendo, credo, da buon commissario. Tale lo è e tale lo sta facendo. È trasversale comunque questa posizione, insomma, l'abbiamo documentato da qua. Ma sì, intanto è una persona che ha voluto, pur conoscendo la città di Portogruaro, perché ha lavorato in provincia di Venezia per vent'anni, ha fatto il perfetto a Verbagna, ha fatto il perfetto a Alessandria, ha un bel curriculum e ha voluto incontrare tutte le associazioni e i soggetti rappresentativi della città, cercando di cogliere quali sono le esigenze e quali sono le necessità. Certo, si trova di fronte a problemi impegnativi. Faccio riferimento, perché credo che questo possa interessare ai cittadini, all'asilo nido. L'asilo nido... È ancora a rischio? Non è a rischio. Parli no, insomma. Allora, non sono in discussione le date come venivano annunciate che è intorno al 31 luglio. Il problema qual è? Il problema è che il commissario, il dirigente, ha fatto una gara che è andata deserta. Si è trovato di fronte a un costo iniziale di un milione e sei, con la possibilità di ricevere contributi dallo Stato per quel famoso decreto che prevedeva da parte del governo interventi fino al 10% del costo dell'opera per evitare rispetto alla ripetazione dei costi. 1.600 più 160 sono 1.870 milioni e ha dovuto utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione perché il costo del progetto è di 2 milioni, se non vado errato, 2 milioni e 3,50 o 2 milioni e 0,35, utilizzando l'avanzo di amministrazione. Questo problema si porrà per tutti gli appalti riferiti al PNR in avanti. Quindi è un problema non di poco conto e se vuoi in un'altra occasione parleremo, se lo ritiene, della caserma di vigili del fuoco e cosa il commissario sta cercando di affrontare. Anche perché abbiamo dato notizia dal Viminale, è arrivato libera per la nuova sede. Abbiamo parlato l'altro giorno di questo. Non è proprio così, nel senso che non sono in grado di sapere se dal Viminale è arrivato il benestare della nuova sede. Io so che la convenzione tra la città metropolitana, perché di competenza della città metropolitana e il comune di Portuguaro, non è stata firmata. Io credo di avere notizie sufficienti per affermare che per fare la caserma di vigili del fuoco ci vuole la bollinatura cosiddetta da parte della Corte dei Conti, che questa non è ancora venuta e che nel bilancio di previsione, votato dal commissario e predisposto dalla precedente amministrazione, non è previsto nulla a bilancio. Continuiamo dunque il telegiornale, parliamo di turismo. Il mondo dell'aria aperta si prepara all'estate con i campeggi in piena ripresa. Sentiamo il presidente di Faita Federcamping, Alberto Granzotto. Abbiamo visto dei dati molto positivi, però sappiamo che il futuro potrebbe non essere così, perché l'alto tasso di inflazione, la crisi della manifattura, l'incertezza sui costi energetici sono tutti elementi che ci aiutano a riflettere sul fatto che quanto ottenuto fino ad oggi può essere messo in discussione. Quindi dobbiamo essere pronti per affrontare al meglio quello che ci aspetta il futuro. Il quadro complessivo dei dati è molto ampio e sono emersi tutta una serie di elementi molto positivi. Innanzitutto è emerso come la clientela straniera, in modo particolare per il territorio del nord-est, sia ritornata più che prima della pandemia, a dimostrazione dell'amore che hanno per il nostro prodotto, per il nostro territorio. E questo è sicuramente l'elemento più importante. A fianco di questo elemento importante abbiamo anche avuto la capacità di recuperare i maggiori costi con un aumento di quelli che sono il volume di fatturato, che però si concretizza anche in un aumento di servizi. Ed è questo l'ulteriore elemento, perché gli investimenti che sono stati fatti hanno permesso di mantenere sempre positivo il rapporto prezzo-qualità. Perché è vero che sono aumentati il valore del costo delle singole risorse, però abbiamo aggiunto nuovi servizi, come gli investimenti effettuati hanno ampiamente dimostrato. Cresce l'economia del Veneto e gli indicatori segnalano miglioramenti sia per quanto riguarda il 2023 che per quanto concerne il 2024. A segnalarlo l'Ufficio Statistica della Regione, nello specifico sulla base delle previsioni per l'area euro, l'aumento del PIL dello 0,8% quest'anno e dello 0,9% il prossimo, viene rilevato un ulteriore balzo in avanti dell'export, con il vino in testa e i prodotti agroalimentari venduti all'estero. Il Veneto si conferma prima regione d'Italia ed esporta da solo tanto quanto la Spagna, considerata terza nazione al mondo. Le esportazioni raggiungono gli 82 miliardi di euro, in crescita del 16% rispetto al 2022. Il mercato del lavoro segna una crescita che sta portando il Veneto verso il raggiungimento del tasso occupazionale del 78% fissato a livello europeo entro il 2030. Il numero degli occupati l'anno scorso è aumentato del 3% rispetto all'anno prima. Si registra una diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro, con un tasso di disoccupazione che scende al 4%, la seconda quota più bassa tra le regioni italiane. In aumento anche i consumi delle famiglie e gli investimenti fissi lordi. Vola infine il turismo, con flussi mai visti nell'ultimo periodo. Il 2023 è iniziato alla grande, con un più 85% di arrivi rispetto all'anno scorso. Raccolta differenziata nel Porto Guraresi. Ne parliamo con Luca Micheluto, che è presidente di Asvo, società che si occupa della raccolta e gestione proprio dei rifiuti. C'è un report presentato proprio da Asvo con percentuali importanti sul territorio relative proprio alla differenziata, presidente. Sì, come ha detto bene lei, nei giorni scorsi abbiamo presentato ai sindaci del bacino Asvo i dati della raccolta differenziata dal 31 dicembre 2022. Sono dati molto, molto positivi. In relazione anche, ricordo che abbiamo anche due spiagge che ovviamente con la differenziata arrancano per le ovvie migliaia di presenze turiste che hanno ogni giorno durante il periodo estivo. E comunque la media del bacino Asvo è del 72%. Un dato veramente importante, appunto se teniamo conto di queste due realtà balneari e se rendiamo conto che questo territorio solo 15 anni fa 30% era differenziato e 70% andava in discarica. Dunque era secco, oggi abbiamo invertito questi due valori. Adesso il 72% del rifiuto viene valorizzato, viene recuperato e solo il 30% è secco indifferenziato. Dunque un grande risultato che i cittadini, gran parte dei cittadini e gran parte delle imprese del territorio hanno fatto in maniera importante. Dunque un grazie a questo territorio che ha lavorato in maniera positiva. San Stino e Cinto sono in testa a questa classifica, a questa emulazione tra comuni. Perché? Perché come abbiamo già annunciato dagli vostri studi, da ormai dal luglio del 2022 ha iniziato questa sperimentazione di riduzione del secco attraverso la tarifazione puntuale. ottenendo risultati veramente importanti perché in questi comuni abbiamo avuto una riduzione del secco addirittura del 20%. Dunque portando addirittura quasi al 90% il comune di San Stino di Rivenza, ma poco dopo 5% maggiori, tutte con percentuali sopra l'80%. La stessa Concordia che noi tra poco inizieremo anche lì, la sperimentazione da luglio 2023, la raccolta a tariffa puntuale, ha già un dato molto importante di raccolta differenziata. Dunque pensiamo che la via che abbiamo intrapesa, soprattutto per i comuni dell'entroterra, di proporre come sistema di riduzione del secco la tariffazione puntuale, dunque controllare il secco che le famiglie e le imprese producono, porti a un miglioramento sia della raccolta differenziata sia della purezza dei rifiuti che ci vengono valorizzati poi nelle nostre filiere. Si può sempre far meglio comunque il caso di... Certo. Non bisogna porsi dei limiti, no? No, no, e va sempre tenuta una importante informazione verso l'impresa, verso la famiglia, verso l'istituzione, verso il mondo scolastico. E questo secondo me è il volano che fa sì che in questo territorio abbiamo raggiunto questi eccezionali risultati, perché un 90% è un comune che ha 15.000 apritanti, voi capite che siamo a livelli di Nord Europa, neanche di Europa, di Nord Europa, cioè livelli che in altre realtà europee è difficile raggiungere. Dunque vuol dire che solo il 10% del rifiuto di quel comune è secco indifferenziato, solo il 10% non va a recupero, che viene poi valorizzato in altro senso attraverso termovalizzatori o impianti cementifici o altri impianti in questo senso. Dunque il 90% di un rifiuto va a recupero, penso, sono un risultato eccezionale e questo, lo ripeto, è grazie alla sinergia che abbiamo messo in questi anni con le amministrazioni comunali, facendo ulteriori passi nella comunicazione, incontrando la gente, incontrando le imprese, spiegando alla gente si può, come dice lei, migliorare. L'unico modo di migliorare è educare e far comprendere l'importanza dell'alcol differenziata alle famiglie e alle imprese del nostro territorio. E' il tema dell'economia circolare che torna e che poi produce dei miglioramenti da un punto di vista chiaramente per l'ambiente ma anche per il risparmio per le famiglie, no Presidente? E' certo, il tema dell'economia circolare che chiaramente è un obiettivo che dobbiamo raggiungere, è un obiettivo ormai una legge europea, la regione Veneto stessa ha fatto una legge sull'economia circolare, è l'obiettivo primario che le aziende come ASU, Gruppo Veritas e le altre aziende che sono occupati di queste problematiche qua, hanno in essere, cioè che non si depauperi le risorse naturali ma si usi gli oggetti, i beni già usati e dunque che la materia non diventi rifiuto ma diventi materia prima e seconda a essere utilizzata. Ecco perché questo processo è un processo virtuoso che se si chiude apporta benefici non solo ambientali ma anche economici. Grazie Luca Michelutto. Grazie a voi, buona serata. Grazie a voi. Rimaniamo a Portogruaro, giovani, anziani, adulti e bambini assieme per l'evento l'incrocio dell'età. Successo oltre le più rose previsioni per l'incrocio dell'età, il meeting tra generazioni giovani e anziane che si è celebrato a Portogruaro grazie all'interessamento dell'Opera Pia ex IPAB Francescon di Borgo San Gottardo. Giro vagando per il centro tutti assieme. All'appuntamento l'altra mattina hanno preso parte cittadini da tutto il mandamento portogruarese, bambini, ragazzi, adulti e anziani, tra cui gli stessi ospiti della casa di riposo ex opera Pia appunto, in testa i membri del CDA con la presidente Caterina Pinelli. Il corteo ha terminato la passeggiata con un picnic nel parco della residenza. Ieri sera, iniziativa comune, nella sala grande della casa di riposo Francescon, dove, a cena, ospiti dell'Inter e del Milan si sono idealmente abbracciati guardando assieme la partita di Champions League. Disabilità visive e barriere architettoniche sono i contenuti di un convegno svoltosi in fiera a Pordenone dedicato agli ostacoli ambientali in relazione alle persone che soffrono di ipovisione o cecità. Per i non vedenti la mancanza di segnalazioni che permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi rappresenta una fonte di pericolosità, per questo il convegno ha fornito strumenti culturali e tecnici che possono aiutare a trovare soluzioni efficaci. Con noi in studio c'è il collega Stefano Boscariol che saluto. Tra l'altro c'è anche la rubrica Momenti di Sport e Società. Dacci qualche anticipazione veloce senza ovviamente svelarci. Beh, Momenti di Sport e Società è questo contenitore di 3-4 minuti di riflessione informativa che propone ai nostri telespettatori un momento di attualità su varie tematiche. Questa sera dovrebbe riguardare un po' il senso di giustizia che è percepito in maniera molto irrisoria e in maniera insufficiente nell'opinione pubblica e quindi cerco con le mie riflessioni di porre anche un'analisi che sia anche costruttiva perché mi sembra che da quello che accade nelle grandi città e tuttora nel segno quotidiano dei media non c'è rimedio, anzi sempre di più si accresce o forse è la percezione, ma non è solo la percezione ma anche la realtà di un cittadino che si sente insicuro di fronte a questi episodi che hanno natura delinquenziale e poi, io non aggiungo altro, chi è capace di osservare, osserva e riflette, insomma ecco. Umanesimo e pensiero critico al tempo della tecnica. Dico solamente un nome, Diego Fusaro. Il 22 di maggio lo intervisterai a Porcia. Sì, è un'iniziativa che è nata da sottoscritto grazie anche al contatto che ho avuto e che sarà lì presente con me come interlocutore di Andrea Meneghe, il dottore in filosofia che lo conosceva e conosco il dottore in filosofia, quindi gli ho chiesto di poter realizzare assieme a lui questa serata che faremo a Porcia. Ringrazio anche colui che mi ha dato una mano a sostenere le spese per questa iniziativa che vuole portare alla ribata, tornando al discorso di percezione e giustizia, questo umanesimo che quindi rispecchia i valori capitali della vita, quindi che sono il bene, il rispetto, i diritti, i doveri, attraverso lui in chiave, lui lo farà in chiave un po' più elaborato. Io cercherò di smontare in senso buono questa sua intervento, perché non ne ho i mezzi filosofici per intervenire, però vorrei portare quello che lui dice a contatto con la realtà di chi ci vede, perché ci sarà anche diretta streaming, ma anche dei presenti, per fargli toccare con mano quanto è importante ancora il senso del bene e soprattutto il del rispetto verso il prossimo. Anche poi magari immagino declinandolo sulla realtà di tutti i giorni, quella che viviamo tutti indipendentemente poi dagli impegni che abbiamo. Ricordiamo i nostri telesperatori che ci vede protagonisti come Medi24, il 4 luglio, vi ricordo al Teatro Russolo, prendete nota, assegnate il suo calendario, ci sarà l'intervento del professor Crepe, scusate, da me moderato, con l'intervento dell'amministrazione comunale che ha voluto questa data. Devo dire sinceramente grazie all'amministrazione comunale, ma grazie anche al professor Crepe, perché in questa fase ha agevolato questa data, avendo un rapporto con lui abbastanza decennale ed era ricco di appuntamenti e di impegni e ci ha dato questa possibilità. Non mancato perché poi sarà lo stesso direttore della nostra televisione che promuoverà questo evento perché sarà un evento di esclusività in cui promuoveremo anche l'ultimo suo libro che è Prenditi la Luna, che uscirà il 27 giugno. Crepe che tra l'altro era stato proprio a Porcia, con un grande successo anche in termini di visualizzazioni. Certo, e vi ringrazio per la collaborazione del gioco di squadra che abbiamo fatto. Grazie ancora a voi. Poi chiaramente in previsione del 4 luglio sicuramente ci torneremo con Stefano. Volentieri, grazie a voi. Grazie dunque. Terminiamo il telegiornal, in linea subito alle nostre previsioni del tempo, a seguire la rubrica Momenti di Sport e Società, poi la programmazione che continua, la sintesi dell'ultima gara del Portoguaro Calcio Femminile, notizie dei colleghi di Italpress Nazionali, e poi il film in prima serata. Arrivederci. Grazie a tutti.